E che ha richiesto notevole tempo e anche molti mesi di lavoro per poter giungere alla sua individuazione, ma comunque i responsabili sono stati assicurati alla giustizia. Avevano dormito in un hotel mostrando documenti falsi, poi avevano pedinato la vittima, un rappresentante di preziosi, attendendo in via Curiel a Pesaro il momento perfetto per colpire. E proprio mentre lui stava caricando in macchina una borsa a tracolla contenente oggetti di un valore complessivo di 30.000 euro, uno dei malviventi era entrato in azione e gliel'aveva rubata. Subito dopo era salito in sella ad una moto condotta da un complice, anche egli con abiti scuri e un casco integrale, dopodiché si erano dileguati verso la periferia. Sono accusati di furto con strappo i responsabili del reato messo a segno il 15 aprile dello scorso anno. Gli investigatori della squadra mobile avevano iniziato fin da subito ad eseguire tutti gli accertamenti del caso per ricostruire gli elementi fondamentali di un fatto che apparentemente non consentiva di risalire agli autori del gesto, visto che viaggiavano a bordo di una moto con targa clonata e a volto completamente coperto. Inoltre il modus operandi utilizzato dagli indagati è risultato professionale ed esperto nel nascondere qualsiasi dettaglio che potesse essere raccolto dagli agenti rendendo quasi impossibile la loro identificazione. È un tipo di reato che si connota per questa caratteristica, appunto di essere itinerante, sono trasfertisti, quindi cercano di occultare in tutti i modi i propri connotati fisici e anche rendersi assolutamente riconoscibili proprio per evitare e rendere molto più difficili le indagini. È iniziata così un'analisi capillare di tutte le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, un lavoro che ha consentito di individuare l'auto di appoggio noleggiata a Napoli condotta da un terzo complice. Dopo aver individuato l'albergo in cui avevano loggiato, il terzetto, prima di giungere a Pesaro per mettere a segno il colpo, i poliziotti sono riusciti a ricostruire il percorso effettuato dalla banda. I tre, ritenuti responsabili del furto, sono stati rintracciati a Napoli, la loro città di origine. Hanno tutti i precedenti penali, sono senza un lavoro e hanno già commesso fatti analoghi in altre città d'Italia. Vista l'alta pericolosità e la professionalità emersa durante le indagini, il GIP del Tribunale di Pesaro ha emesso nei loro confronti la misura degli arresti domiciliari.